Bene, inizia sempre laggando, sai, il dealer, sto perfetto. Ok, potremmo scordare niente, se devo scordare più, non credo di avere altre opzioni. Viscioso. Siamo in un pozzo, solo mollo. L'ho fatta a caso? Anche in acqua dovete cagare il cazzo. E' un po' sbagliato. E' un po' sbagliato. E' un po' sbagliato. Adesso io devo andare qua. E' un po' sbagliato. 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 Capisco. E' un po' sbagliato. 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 E' avrà. E ora? E'va far fuori tutto? pesco l'ulta obbis négy a pocineculativa pocineculativa stiamo bevando ok oh um 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 hello ok ok Ah qui c'è l'acqua non c'è l'acqua che poi è un colpitoio ma tipo non solamente ah Eddie hello è un colpitoio ma è un colpitoio ma è un colpitoio ma aspetta oh il salvataggio tavola del maiale in gold è un colpitoio ma 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 non c'è un colpitoio ma è 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 un colpitoio ma ok cos'è? ok c'è un cazzo io volevo non è questa stessa buona per trovare una mappa no non l'ho mai storia non è stata una pubblicazione locale lago di Toluca l'attrazione turistica principale della città questo bellissimo lago limpido ha anche un'altra facciata può sembrare una delle tante storie di fantasmi tipica delle vecchie città ma in questo caso la leggenda è vera un giorno di nebbia nel lontano 1918 la Little Baroness, una nave carica di turisti, non fece ritorno in porto un articolo di giornale di allora dice semplicemente è probabilmente affondata per qualche ragione a dispetto di assito di cerchio da parte della polizia fino ad oggi non è stato rivenuto neanche un frammento della nave o uno dei 14 colpi dei passeggeri o dell'equipaggiamento nel 1939 è venuto un episodio ancora più strano molte pagine sono state stappate molte salme riposano in fondo a questo lago le loro mani scheletiche si allungano verso le braccia verso le barche verso le braccia che non so manca raggiungere verso le barche che li passano sopra forse cercano i loro compagni tutto in a più totale sobrietà a questo lago Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono minuti in questo sito perché c'è il mio padre al telefono e quindi metto in muto per evitare che si senta chiamato. E a volte passa da let's play con commenti a let's play senza commenti ma con la mia faccia. No allora però sembra essere... non so... La situazione di chiamata sembra essere a posto... Ho bene durare un po' le mappe ora utilizziamo questa... Fammi fare una cazzata in mane? Oh no, carabina. Ho una carabina. A posto. Dove lo pesa? Ottima domanda. Qui bagni. Ok. Secondo me bisogna cercare di ritornare all'inizio della prigione. Aspetta, mappa trovata. Una mappa della prigione. Ma niente a che fare con me. Ottimo. Cosa tutto ho già esplorato. Ok. Eh, vediamo. Qui è la stanza dove c'è il cappio. Correndo all'impazzata perchè mi stavo cliccando sotto aveva fatto un po' molte cose qua. Ehm. Vediamo qua. Cosa c'è? Il CIA dà... Angmi ciò meno le... Sì, sì, sì. ok ma la prima cosa dopo è saltata ok 436 personal don't rachetal donna in volo Ah ma è su E qua ce lo siamo fatto tutto Poi La paura è tanta qui dentro ragazzo Mi preoccupa con la cosa su Ottimo in quella zona non ci si va Sono ancora da addosso non l'ho mica visto Ok Ora il piano mio è quello Probabilmente ho trovato ben due punti di salataggio per quanto ho corso ma va bene Tra l'altro non so nemmeno se la mappa me l'ha messa lì per disperazione Magari ho cambiato il codice di gioco O sarà proprio lì pianificata Ehm Allora mi viene ancora di fare questo Quindi Scendiamo adesso Forse sono sceso un po' troppo Ci sono Magia neva dell'abisso di diversi mediomorti con la caglia di con lo scritto degli anni di Di farrano anche le siano molto importanti Ho una bambola di cera Ora Agh Ehm 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 L'argo Ehm 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 Ok Ultima via Ok Ok Mamma Ok 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 Ah 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 qui abbiamo esplato praticamente tutto tranne questa zona è questa parte qui è quella cosa lì in basso praticamente tutto un cazzo però si corre si scende più giù all'altra porta no in quella zona non ci si va no sono andato troppo avanti qui ho paurissima io ho detto terrorizzando ok quindi si corre direttamente laggiù laggiù ok qui nob benissimo fate che sto soffrendo come un cane ok ti dovrebbero utilizzare quelle tabole per qualcosa